buongiorno buongiorno dal dottor claudio saraceno da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale oggi ragazzi spiegheremo come nasce come si soluziona come si va a trovare la soluzione per l'ansia da scuola chi influisce nell'ansia da scuola per gli adolescenti per i bambini ma anche aggiungo per chi va all'università in primis sono e la tv poi ci sono i sociali cellulari come vedi su questo disegnino fatto a mano dal sottoscritto poi ci sono i genitori vittime di altre vittime poi gli amici la scuola in genere intesa anche come amici di scuola i professori perché se un professore ansia lo ripete anche a scuola perché purtroppo nessuno gli impedisce di non usare il suo modo di fare inconscio i personaggi famosi cantanti attori il paese nel suo insieme per cui cosa succede nella mente del bambino del ragazzo dell'adolescente del giovane nasce l'ansia la paura io ho conosciuto molti adolescenti che fino alla terza media non avevano paura di nulla si buttavano a farsi interrogare affrontavano la paura e come recitano molti testi sacri quando affronti la paura la paura va via ma quando scappi la paura ti insegue come diceva anche un famoso personaggio di nome william james si fugge perché si ha paura o si ha paura perché si fugge bene la soluzione ragazzi anche se qualcuno come la maggior parte non vuole essere aiutato né da specialisti della salute né da dal vivo né online né andare da nessuno a posto perché ha paura di essere giudicato perché si vergogna perché crede di non avere bisogno è scaricarsi un audio mp3 dices dal titolo no panico no ansia segue le istruzioni alla lettera e come per incanto come per magia l'ansia da scuola o anche altri tipi di paura vanno via senza se senza ma come successo centinaia e centinaia di persone nel mondo ti prego non credere al dottore saracino devi credere al potere della tua mente però se rifletti non sei nato con l'ansia l'ansia dell'anno inculcato come tante altre paure per cui a te la scelta per eliminare tutto ciò che ti causa paura guarda come un colpo di spugna tu lo elimini semplicemente così ok ti sveglierai la mattina senza più paure senza nulla di nulla di nulla creando lavando pulendo la tua lavagna mentale dall'ansia da scuola da tutte le altre paure sulla vita che poi alla fin fine si arriva sempre lì alla vita la famosa vita d'accordo e troverai questa lavagna mentale pulita pulita con il potere della tua mente le suggestioni dicesse del dottor claudio saracino anche con un solo audio mp3 dicesse senza spostarti da casa in qualunque parte del mondo in cui risiedi tu troverai pace visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche su altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor claudio saracino il metodo dicesse l'ipnosi dicesse vera e professionale del sages baby hills se non lo sapesse funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto non può ricevere il tuo aiuto se segui le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro un bacio un abbraccio dal bacio un abbraccio al dottor claudio saracino nella prossima ciao